Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo questa maglia del Liverpool dedicata a LeBron James in edizione player, la versione fun l'avevamo già vista e trovate qui sopra la recensione. Il mondo dello sport celebra il record di LeBron James. LeBron è noto anche per essere uno di quei sportivi che investe molto nello sport. Tra le sue attività imprenditoriali, il numero 6 dei Lakers, è uno degli azionisti del Liverpool e tiene circa il 2% del club. Il design di questa maglia presenta una base nera con strisce e blocchi grigio scuro accentuati da profili rossi. I dettagli all'interno delle strisce presentano due acronimi quasi traslusti che rappresentano LFC e LeBron, YNWA, You'll Never Work Alone e SFG, Strive for Greatness. Sulla maglia sono presenti anche l'iconico stema del Liverpool, lo slush di Nike e la corona con il brand di LeBron. La maglia è molto bella. Mi era piaciuta nella versione fan, nella versione player, mi piace ancora di più. Nella mia classifica prende 4 stelle. Veramente molto bello il tessuto della versione player. Il costo lo vedete qui sopra? Non aggiungo altro, ho già detto tante volte, è molto basso, molto conveniente, fate voi i vostri calcoli. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito quale splendide offerte vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, aiutateci a far crescere il canale. Lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.